Il mio capo, il signor Kit Nesbit, veniva affettuosamente chiamato dai suoi dipendenti baffo di merda. Per via di quella specie di folto cespuglio incaccolato appiccicato al suo labbro superiore. Era stato Nesbit a coniare l'eufemistico motto dello studio. Giustizia con classe. Io ero un apprendista procuratore legale. Rifaccia la comparsa per l'ora di pranzo. Ma non era poi tutto così male. Anzi, per la verità, in qualche modo mi piaceva. Perché era là che per la prima volta avevo conosciuto Joanna.